Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Come ogni anno a primavera la rete di associazione antimafia libera dal 1996 ad oggi sceglie come simbolo sia di rinascita e sia di vita. Questo periodo che è l'inizio anche di un percorso di impegno e di speranza. Non un ricordare astratto che lascia il tempo che trova, ma un ricordo che è un memoriale, cioè un rivivere, quello che queste persone che sono state ammazzate hanno vissuto, cioè l'impegno per il bene comune. Una ricorrenza di sensibilizzazione e mobilitazione da nord a sud dell'Italia. A Gioia Tauro cento passi in musica per questa ventisettesima giornata organizzata dall'Istituto Comprensivo Paolo VI Campanella. Oggi la musica praticamente ha dominato la scena. Abbiamo voluto condividere il lacerante dolore delle famiglie, delle vittime innocenti di mafia, perché non rimanesse circoscritto alla sfera personale, ma divenisse invece patrimonio comune. Messaggio della sottosegretaria per il sud delle coesioni territoriali, Danila Nesci. Fra le numerose autorità presenti anche il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, che in chiusura dice... Dobbiamo ricordare quei nomi, dobbiamo ricordare quei volti e dobbiamo soprattutto lavorare e operare nel loro ricordo.